Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e logicamente siamo qui per il banner di Brian, quindi per pullare nel nuovissimo Dream Festival. Come possiamo ben notare dalle mie dream volo giù, il tentativo che posso andare a fare è 1. Ora voi mi direte perché fai il video per una pullata singola? È un po' uno spreco del mio tempo e del vostro? E avete perfettamente ragione, totalmente uno spreco. Però diciamo che a portata nevevo 100, stamattina appena alle 9 è uscito il banner e non ero a casa, non mi sono riuscito a trattenere dal fare un pull, dal fare una prova, sono 24 ore e passa che non dormo, quindi non sono propriamente conscio di quello che sto facendo. E diciamo che spero che 50 dream volo una pullata mi esca la spulata, anche se di solito è meglio piangere, perché no non esce niente, non esce niente. Diciamo che dopo aver visto un video in cui con 900 dream volo non esce Brian, mi sono un po' scoraggiato, però è gioco. A volte va e a volte no. Quindi mi posso aspettare un Brian come mi posso aspettare tranquillamente niente, nada de nada, 0 de 0. Logicamente questo non è una cosa che aspetta a me decidere, è una cosa che aspetta Lucky Lab. Eh raga. Oh no, volevo cambiare un attimo la lingua in italiano. Ho notato che quando metto la lingua in inglese non ho proprio fortuna. In italiano invece ho un pullo della madosca. Ufff. 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 Maronne. 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 No. 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 Maronna chicca. Per l'amor di Dio mi serve per la verde però. Maronna chicca. Maronna cia. Cioè per la mono euro verde Oh no. 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 Maronne ma com'è possibile? Ufff. Ufff. Ah ok. Calmiamoci. Ok. Allora io ho appena visto tre ssr. Non ho visto Brian. Però. Maronna chicca. Maronna pullo. Ok. No mi diamo un attimo. Allora. Allora. Sono usciti tre ssr. Di cui assolutissimamente gentile mi serviva quindi assolutissimamente nulla da dire su nessuna metodologia. Gentile assolutissimamente serviva la mia mono euro verde che praticamente mi mancano tre personaggi per completarla quindi assolutissimamente assolutissimamente mi serviva maronnaccia mi serviva proprio maronna chicca. Mi serviva però mannaccia la muttana. Però se magari mi usciva Brian subito diciamo mi evitavo di aspettare altri due giorni e soffrire come un cane turco perché ora in questi due giorni che diciamo cambia il banner perché non mi conviene burlare ora mi conviene aspettare che un presente gentile sia sostituito da giro soffrirò come un cane turco sotto crack nella sofferenza del fatto che possa non uscire e che probabilmente non uscirà. Però maronna chicca il piangersi addosso funziona in maniera brutale cioè maronnaccia. Vabbè sì ormai giocare a lol mi fa male. Comunque 3-3 ssr di cui non so perché mi sentivo che l'ultima palla si spaccava non lo so perché me lo sentivo però maronna vittorino. Vabbè comunque non è andata come volevo. Diciamo che ci manca un Brian Cryford però va bene cioè voglio dire 3 ssr un doppione e due nuovi. Vittorino vi serve per la challenge road. Aiaiaiaiai però non è uscito Brian però è uscito è uscito gentile che per la mono euro verde è tanta roba. Diciamo che da farmare c'ho ancora quindi dovrei riuscire a fare altre due multi quindi due multi nel quando sarà anche Gino il red up madre di dios speravo di chiuderla oggi. Speravo di chiuderla ora in questo momento se vi fa stante ma a quanto pare non sarà propriamente così quindi per quanto io ci speri per quanto io ci possa sperare cioè per quanto io ci abbia sperato che quella palla fosse Brian e quella palla non era Brian però raga che dire è stata una bella singola maronnaccia maronna e vabbè è andata così. Vi ringrazio per aver visto questo mini video di qualche secondo sì sto giocando con i capelli come fanno le donne quando quando sono in difficoltà e totalmente inaspettato totalmente inaspettato cioè mi aspettavo un giapponese di merda onesto mi aspettavo un giapponese e invece gentile gentile va bene non è quello non è quello che volevo ma è quello che serviva quindi gentile va bene aspettiamo il ban cioè il cambio del banner aspettiamo che entra Gino al posto di gentile per ributtarci intanto con gli scenari eccetera eccetera ho fatto il calcolo di poter simulare il centro Dreamable quindi ci vediamo praticamente tra due giorni per il Dream Festival però oggi ho dato questa era la mia fortuna di oggi maronne chicca e per la serie ragazzi visto che oggi leggevo su Facebook Dreamable pagate o Dreamable free non cambia solutissimamente alla sega